Buon anno a tutti, non ci lasciamo ancora scambiare. Comincia questo anno, questo bel tempo di fuori che mi ricordo di quel vento, quindi io sono contento, non abbiamo un video a corretta, però sappiate che per me è una bella giornata, non ci è, ci sono i centri di vita, dalle violina, io sono contento, quindi sappiate che non è male per voi, se qualche bene si dice no, no, io non volevo essere, volevo essere un po' bene, quindi quel pomostra se l'avete guardato. Loro vengono del bene, poi si è andato, non lo so, l'ultimo dell'anno, se l'avete aventi, si è sposato suo figlio, qui in questa cattedrale, quindi abbiamo finito l'anno del matrimonio, ieri c'era un battesimo, oggi c'è un altro battesimo, quindi ringraziamo il Signore per la propria vita vita. E poi oggi c'è un'altra cosa con Giuseppe, con Giuseppe. se non siete, se non siete, se non siete, non siete, e abbiamo detto di Giuseppe, che abbiamo finito l'anno del matrimonio, ieri c'era un battesimo, oggi è un altro battesimo, e poi? l'importante è un battesimo, oggi c'è un battesimo, e poi la bellezza di sette e otto, sette e otto cambiamenti. Grazie mille, grazie mille. Grazie per gli auguri, grazie soprattutto per la preghiera, perché tutti ne abbiamo bisogno. Ecco, nonostante la mia vita, grazie a Dio, sono disponibili, soprattutto per le confessioni, poi molti sacerdoti, si vede che sono in piacerezza, e allora molti sacerdoti, da cercano che l'entrino, e chiamano, non vorrò più adesso che prima. E quindi, veramente, io ringrazio veramente tutti questi anni, che sono stato parlato qui, nella cattedrale, ringrazio Sua Eccellenza Ambrogio, che ha dato questa possibilità, sempre uno, due Giorgio, ecco, vi ricordate, io, ecco, siamo in contatto continuo con uno Giorgio, per i tempi, e adesso, ecco, speriamo che quest'anno, che è iniziato, sia un anno buono, sereno, tranquillo, e, come ho detto ieri, nell'Obedia, chiediamo a Maria Santissima, a nostra madre, a Maria Sopra in Cielo, perché vogliamo che in quest'anno, si riametti in noi, la giustizia, l'amore, e la pace. Ecco, finito. Grazie. Non vi facciamo dire quali ci sono stati i suoi goli della vita, non ci sono tre pagine, che la stessa vita non ci vuole mettere, ma ci sta a altri momenti. Allora, continuiamo a celebrare, come sempre, e continuare a celebrare il Signore, la prima cosa importante è chiedere perdono dei nostri peccati. Il peccato fondamentalmente, è una scelta di essere lontani, quindi cerchiamo di avvicinarsi, soprattutto con il cuore e con il pensiero. Signore, Figlio di Dio che nasce, nascendo da Maria, regge e si impatta a nostro fratello, Cristo, figlio di Dio che conosci e comprende la nostra amorezza, e con il cuore e con il cuore e con il cuore e con la nostra amorezza. Signore, figlio di Dio che vi è il primo genito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, e con il cuore e con il cuore e con il cuore. Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a tutti. l'anno... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E quando dice... ... ... perché è... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... Per il Padre, i Vescovi e tutti i pastori, nel servizio al mondo di Dio, siano messaggeri instancabili della verità e testimoni coraggiosi della pace, preghiamo. Per coloro che hanno responsabilità politiche, educatiche e sociali, sappiano progettare e costruire la vera pace, garanzia di vita fratello, preghiamo. Per le famiglie, realizzino al loro interno il modello di umanità disuncidata nell'amore e irradiano intorno a sé lo spirito del Vangelo, preghiamo. Per le vittime della violenza, per i perseguitati, gli immaginati, gli oppressi, sia rispettata la loro dignità di uomini liberi e sia onorata in loro l'immagine del figlio di Dio fatto loro, preghiamo. Per tutti noi, riconosciamo i continui benefici che il Signore ci ha concesso nell'anno trascorso, specialmente gli inestimabili e loro nella presenza del Signore in mezzo a noi, preghiamo. Per esempio, signore, i nostri fratelli sono lasciati quest'anno. In modo particolare, noi vogliamo ricordare a Giovanni, Alessandra, preghiamo perché siano tutti accolti nella Tua pace e nella Tua luce e viviamo il desiderio di incontrarci insieme. In paradiso con te, conosceremo bene. Preghiamo. Preghiamo. Signore, ripetente, che nel Tua amore ci hai donato un figlio, fa che la nostra vita sia testimoniata concreta del Cristo che vive nel dimore del Vangelo. E quindi, ripetente, che nel Tua amore ci hai donato un figlio. Amore. Grazie a tutti. 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 il Dio ripotente, il Padre, il Figlio e il Spirito Santo discida su noi e sulle vostre famiglie e con voi è una persona. E nel nome del Signore, dopo il canto, andiamo in pace. 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 Andiamo in pace.